Alberto Moravia, il mediatore, tratto dai racconti romani. Salendo lo scalone del palazzo, Antonio, il maggiordomo, mi avvertì. Non ti fare illusioni di guadagnarci molto con la principissa perché è avara da non credersi. Da quando l'è morto il marito, poi, gli è venuta la passione di occuparsi dell'amministrazione e non lascia più bene avere a nessuno. Ma che è vecchia? Domandai a caso. Vetti a lei. È giovane, bella. Avrà sì e no venticinque anni. A vederla sembra un angelo. Le apparenze ingannano. Risposi. Beh, può anche essere un diavolo, ma io non voglio se non quello che mi è dovuto. Faccio il mediatore. La principessa ha un appartamento da vendere. Io glielo vendo. Prendo la percentuale e tanti saluti. Eh, non è così semplice. Ti farà sputar sangue. Aspetta che vado ad avvertirla. Mi lasciò nell'anticamera e andò ad avvertire la principessa, che lui chiamava Eccellenza, come se fosse stato un uomo. Aspettai un pezzo in quell'anticamera fredda, gelata, proprio di palazzo antico, con le pareti ricoperte di arazzi e la volta affrescata. Finalmente Antonio venne a informarmi che Sua Eccellenza mi aspettava. Attraversammo una sfilata di saloni e poi, in un salone più grande degli altri, nel vano di una finestra, vidi una scrivania e lei che ci stava seduta scrivendo. Antonio le si avvicinò con rispetto, dicendo, Ecco il signor Proietti, Eccellenza. E lei rispose, Venite pure avanti, Proietti, senza alzare gli occhi. Come le fui accosto, potei guardarla a mio agio e dovetti subito riconoscere che Antonio non aveva esagerato, paragonandola a un angelo. Aveva un viso fine, bianco, delicato, dolce, coi capelli neri e certe lunghe ciglia nere che le ombreggiavano le guance. Il naso, un po' all'insù, era sottile e trasparente, come abituato a non odorare che profumi. La bocca l'aveva piccola con il labbro superiore più grosso, simile a una rosa. Abbassai gli sguardi alla persona. Era vestita di nero, con una giubba stretta. Aveva i fianchi e il petto larghi e la vita di vespa da farne il giro con le due mani. Scriveva. La mano era bianca, magra, elegante, con un diamante all'indice. Poi alzò gli occhi verso di me e vedi che erano bellissimi, enormi, scuri, insieme vellutati e liquidi. E disse «Allora, Proietti, vogliamo andare a vedere l'appartamento?» Aveva una voce dolce, carezzevole. Balbettai «Sì, principessa, venite, Proietti, venite di qua», lei disse prendendo una grossa chiave di ferro. Riattraversammo tutti quei saluni. Nell'anticamera lei disse ad Antonio che accorriva ad aprirle la porta. «Antonio, dite un po' a quelli giù del termosifone che non mettano più carbone, si soffoca qua dentro dal caldo» e io mi meravigliai perché l'anticamera era gelata e così tutte le altre stanze. Prendemmo per lo scalone, lei avanti e io dietro. E mentre mi precedeva potei vedere che aveva anche una figura bellissima, alta, sottile, con le gambe dritte e con il vestito nero che faceva risaltare la bianchezza della nuca e delle mani. Salimmo due rampe dello scalone, poi altre due rampe di una scala di servizio e finalmente, in fondo a una soffitta, trovammo la scala a chiocciola di ferro che portava l'appartamento. Lei si inerpicò per questa scaletta e io salì dietro abbassando gli occhi perché sapevo che avrei potuto guardarle le gambe e non volevo e già la rispettavo come una donna che si ama. Entrammo nell'appartamento che consisteva, come vidi subito, in due stanzoni con il pavimento di ammattonato e le finestre a bocca di lupo, aperte e in alto sotto il soffitto. Una terza stanzetta di forma circolare, ricavata in un bel vedere, dava con una porta-finestra su un balcone con la ringhiera, sospeso sopra un gran tetto di tegole brune. Lei aprì la porta-finestra e uscì sul balcone dicendo «Venite, proietti, guardate che panorama!» «Effettivamente la vista era bella. Da quel balcone si scopriva tutta Roma con tanti tetti, cupole e campanili. Era una giornata serena e in fondo al cielo azzurro tra un tetto e l'altro si poteva vedere anche la palla di San Pietro. Guardavo imbambolato il panorama ma in realtà quasi non lo vedevo e non pensavo che a lei come a qualche cosa che mi preoccupava e che non potevo dimenticare. Lei intanto era rientrata e io mi girai domandando meccanicamente «Ei servizi!» «Ah, volete dire il bagno?» «Eccolo!» Andò da una porticina che non avevo notato e mi mostrò una stanzetta cieca, bassa e rettangolare in cui aveva sistemato il bagno. Al primo sguardo potei rendermi conto che le porcellane erano proprio andanti, roba da casa popolare. Lei richiuse la porticina del bagno e mettendosi nel mezzo dello stanzone le mani nelle tasche della giubba mi domandò «Allora, Proietti, quanto credete che possiamo domandare?» Ero così preoccupato dalla sua bellezza e dal fatto conturbante di trovarmi solo con lei in quella soffitta che per un momento non risposi nulla guardandola. Lei forse si rese conto di quello che mi passava per la testa perché battendo in terra il piede piccolo e nervoso soggiunse «Ma si può sapere a che cosa pensate?» dissi in fretta «Ee, facevo un calcolo sono tre vani ma non c'è l'ascensore e chi compera dovrà fare dei lavori diciamo tre milioni e mezzo «Ma Proietti!» esclamò subito lei alzando la voce «Proietti! Io volevo chiedere sette milioni!» Dico la verità per un momento rimasi sbalordito questa combinazione di bellezza e di affarismo mi sconcertava Balbettai finalmente «Principessa! A sette milioni nessuno glielo prende!» «Ma questi non sono i parioli! Questo è un palazzo storico! È il centro di Roma!» «Insomma, discutemmo un pezzo lei ritta nel mezzo della stanza ed io a buona distanza per non essere indotto in tentazione parlavo, parlavo ma in realtà non pensavo che a lei in mancanza di meglio me la divoravo con gli occhi alla fine molto a malincuore si lasciò convincere per quattro milioni che era già una somma elevata e infatti a voler calcolare un milione di lavori che bisognava farci mettendoci anche le tasse e tutto il resto l'appartamento al compratore sarebbe venuto a costare quasi sei milioni e io, che avevo già il cliente le dissi che era un affare fatto e me ne andai il giorno dopo mi presentai al palazzo con un giovane architetto che cercava appunto qualche cosa di pittoresco e di eccezionale la principessa prese la sua chiave e ci mostrò l'appartamento l'architetto discusse un poco sul prezzo ma alla fine accettò la somma già fissata quattro milioni ma il mattino seguente presto saranno state neppure le otto mia moglie venne a svegliarmi dicendomi che la principessa era al telefono dal sonno quasi non ci vedevo tuttavia la voce di lei dolce e fine che mi parlava mi sembrò una musica ascoltai questa musica in pigiama i piedi nudi sul pavimento mentre mia moglie si inginocchiava per infilarmi le pantofole e poi mi gettava un soprabito sulle spalle capì poco o nulla ma tra tante parole due ad un tratto mi colpirono cinque milioni e dissi subito principessa ci siamo impegnati per quattro non possiamo ritirarci o negli affari non esistono impegni o cinque milioni o nulla ma principessa quello si squaglia non fate il fesso proietti cinque milioni o nulla dico la verità la parola fesso pronunciata da quella voce non mi sembrò né volgare né ingiuriosa quasi un complimento dissi che avrei fatto come lei voleva e subito dopo telefonai al cliente comunicandogli la novità lo udì esclamare subito all'altro capo del filo ma non scherzate voi altri un milione in più dalla mattina alla sera e che ci vuol fare questi sono gli ordini beh vedrò ci penserò beh allora lei mi farà sapere oh sì sì ci penserò vedrò morale non si fece più vivo cominciò allora per così dire il periodo più intimo dei miei rapporti con la principessa lei mi telefonava in media tre volte al giorno e io ogni volta che mia moglie gridava con ironia c'è la solita principessa mi turbavo come se fosse stata una telefonata d'amore eh sì altro che amore era attaccata al soldo in maniera da non credersi interessata avara cocciuta ingegnosa peggio di un usuraio bisogna dire che al posto del cuore ci avesse un salvadanaio non vedeva e non pensava che al denaro ogni giorno poi al telefono ne inventava una nuova per aumentare il prezzo fosse anche di una sciocchezza 5 o 10 mila lire oggi era il bagno per il quale bisognava includere il compenso dello stagnaro domani la vista un altro giorno il fatto che l'autobus si fermava proprio davanti al portone del palazzo e così via ma io tenevo duro sulla cifra di 5 milioni che era già enorme tant'è vero che i compratori appena la sentivano non si facevano più vedere finalmente per un caso fortunato le trovai l'amatore un milanese un industriale che nell'appartamento voleva metterci una sua amante nutella era un uomo sbrigativo pratico che conosceva il mercato e il prezzo del denaro di mezza età alto con la faccia lunga e bruna e la bocca piena di denti d'oro venne a vedere l'appartamento esaminò con cura ogni cosa e poi dissi alla principessa senza tanti complimenti ma è una topaia a Milano ci metteremmo le fontane per lavare i panni vale 5 milioni come io sono turco ma quando ci avrò fatto i lavori necessari come rifare i pavimenti gli infissi aprire delle finestre cambiare questa robaccia e indicò le porcellane del bagno mi verrà a costare 7 o 8 milioni non importa la legge del mercato si regola sulla domanda e sull'offerta lei ha incontrato la persona che ha bisogno di questo appartamento e dunque ha ragione lei ma fece male a tenere questo discorso franco e brutale da uomo d'affari perché lei appena se ne fu andato mi disse addolorata proietti abbiamo fatto un errore enorme quale e di domandare 5 milioni soli quello ne pagava anche 7 risposi principessa ho paura che lei non abbia capito il tipo quello è un uomo pieno di soldi è vero vorrà anche bene all'amante non discuto ma più di tanto non dà oh lei non sa quello che un uomo può dare per una donna che ama disse lei guardandomi con quei suoi bellissimi occhi in cui non c'era che interesse e denaro mi confusi e risposi può darsi ma io sono convinto del contrario basta il giorno dopo il milanese si presentò al palazzo con un suo legale e la principessa appena ci fumo seduti disse subito signor Casiraghi mi dispiace ma ripensandoci non posso più dare l'appartamento per la cifra di ieri e cioè e cioè ci vorranno 6 milioni avreste dovuto vedere il Casiraghi con molta semplicità si alzò e disse principessa ho il piacere e l'onore di salutarla fece un inchino e se ne andò dissi appena fu scomparso ha visto chi aveva ragione ma lei niente affatto sconcertata vedrete che troveremo il compratore anche a 6 avrei voluto mandarla al diavolo ma purtroppo ero proprio innamorato e forse appunto perché ero innamorato non notai la stranezza del compratore che per 5 milioni e mezzo le trovai di lì a qualche giorno alla somma veramente forte non fiatò era un signore di campagna un giovanotto grande e grosso che sembrava un orso a nome Pandolfi mi fu subito antipatico quasi per un presentimento come lo presentai alla principessa capì subito perché non aveva protestato contro il prezzo intanto a quanto pare avevano un sacco di amici in comune e poi lui la guardava in un certo modo che non lasciava dubbi esaminammo al solito le tre stanze e il bagno e poi lei aprì la porta finestra e uscì con lui sul balcone per mostrargli il panorama io ero rimasto indietro nella stanza e così potei osservarli appoggiavano ambedue le mani sulla ringhiera e allora vidi la mano di lui avvicinarsi come per caso a quella di lei e poi sovrapporsi ricoprendola cominciai a contare piano e giunsi fino a venti venti secondi di strofinamento sembra niente ma provate a contarli a venti lei con naturalezza svincolò la mano e rientrò nella stanza lui disse in sostanza che l'appartamento gli conveniva e se ne andò restammo soli e lei sfacciata disse avete visto proietti cinque e mezzo ma saliremo e il mattino dopo tornai da lei che mi aspettava al solito seduta alla scrivania nel salone mi disse tutta vispa sapete proietti che cosa ho scoperto ieri mentre guardavo il panorama con quel vostro cliente avrei voluto rispondere che è innamorato di lei ma mi tratteni lei continuò ho scoperto che in un angolo si vede un bel po' di villa borghese proietti bisogna battere il ferro finché è caldo oggi al signor pandolfi gli chiediamo sei milioni e mezzo avete capito sapeva che pandolfi era innamorato di lei e voleva specularci sopra quei 20 secondi che lui le aveva tenuto la mano sulla mano adesso glieli faceva pagare un milione tondo 50.000 lire al secondo che appetito ma questa volta capivo che avrebbe ottenuto la somma e provai a un tratto insieme rabbia gelosia e disgusto ero stato mediatore di un affare fino allora ma adesso lei mi faceva diventare mediatore di una tresca prima ancora che potessi rendermene conto dissi con forza principessa faccio il mediatore non il mezzano e rosso in faccia uscì di corsa udì lei che diceva per niente offesa ma proietti che vi prende e quella fu l'ultima volta che sentì quella sua voce così dolce mesi dopo incontrai antonio il maggiordomo e gli domandai e la principessa si sposa con chi scommetto che si sposa con quel pandolfi che le comperò lattico ma che pandolfi si sposa con un principe meridionale vecchio bacucco che potrebbe essere suo nonno ricco però dice che possiede mezza calabria insomma l'acqua va al mare è sempre bella un angelo dell'acqua